Spero proprio di sì, spero che finalmente le parti sociali ma anche le parti istituzionali mettono al centro il lavoro, mettono al centro l'occupazione, la crescita e responsabilmente trovino capacità di sintesi per fare accordi importanti. Il segretario condivide che lo scambio salario-produttività c'è una stella polare? Guardi, noi abbiamo un paese di piccole e medie imprese, quindi è ovvio che noi dobbiamo incentrare la produttività nella contrattazione di secondo livello così come proponiamo.